Tre ragazzi in formazione professionale a Roma, uno sportello lavoro che aprirà per i giovani del territorio. Sono questi gli ottimi risultati dell'incontro promosso dal comune di Qualiano e dalla società di formazione Quanta. In questo momento, mentre noi stiamo parlando, possiamo dire con certezza che i primi tre candidati degli 80 che abbiamo incontrato a colloquio in questo momento sono presso una grande azienda nazionale per, speriamo, iniziare un percorso di formazione e poi successivamente un lavoro. Con quali competenze? Di che cosa si occuperanno? Speriamo di poter inserire in un percorso di formazione per la fibra ottica. Adesso stiamo cercando come comune di coordinare il Consorzio Imprenditori Giuliano con Quanta per fare in modo che ci sia poi uno sportello continuo che mette in relazione imprese e esigenze del mondo del lavoro e quindi disoccupati e fare in modo che ci sia in questo anche una formazione orientata direttamente all'esigenza del mondo del lavoro e far scoprire anche i ragazzi che anche sul nostro territorio ci sono eccellenze di imprese che hanno bisogno di mano d'opera specializzata, cosa che spesso non si sa. Sindaco, l'incontro che il comune ha promosso ha avuto successo. Tre ragazzi sono già a Roma e stanno già facendo una prima esperienza lavorativa. Beh, intanto questa è una nota positiva. Io sono anche sicuro che non si fermeranno a tre le assunzioni ma andranno oltre. Ed è una risposta questa a chi è pessimista per natura. Il Consorzio Asi ha ospitato questo importante evento. Quanto è importante aprire le porte ai ragazzi e ai giovani? Sì, è importantissimo aprire il contatto ai ragazzi e soprattutto è fondamentale. Poi io sono un genitore quindi quando parliamo di ragazzi è sempre un'ipotesi che ci riempie il cuore di gioia mentre i ragazzi a lavorare. Sarebbe bello però che insomma i ragazzi restassero al sud anziché andare sempre via? Ma sarebbe l'ideale anche se il sud non è che poi offre tanto. Cerchiamo di fare noi quanto più possiamo fare. C'è stato un incontro importante. Si sperava tanto in dei risultati positivi che a quanto pare ci sono stati. Sì, ci sono stati degli ottimi risultati rispetto a questo evento che è stato messo in campo per i giovani. Hanno risposto tanti giovani quella giornata, tutti entusiasti, anche chi semplicemente per un colloquio perché ha capito l'importanza di conoscere, di aprirsi al mondo del lavoro e quindi insomma hanno apprezzato tantissimo. Un'esperienza che si ripeterà grazie al successo di questa edizione.